Il MIT finanzia i comuni per interventi energetici, infissi, fotovoltaico, pompe di calore, solare termico. Il Ministero della Transizione Ecologica mette a disposizione 320 milioni di euro per l'efficientamento energetico degli edifici delle amministrazioni pubbliche attraverso l'acquisto di beni e servizi tramite MEPA. I fondi consistono nei finanziamenti di progetti per l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il piano ha come obiettivo di favorire gli investimenti di efficientamento energetico dei singoli comuni, contrastando in questo modo gli effetti negativi dell'aumento del caro energia. Il piano favorirà i suddetti investimenti. Impianti fotovoltaici, impianti a pompa di calore per la climatizzazione, impianti solari termici, sistemi di relamping, chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare, generatore di calore. È rivolto a tutti i comuni presenti in Italia e il plafond disponibile è pari a 320 milioni di euro. Il finanziamento verrà riconosciuto come un contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili, secondo una procedura a sportello che prevederà l'esemplificazione dei vari adempimenti burocratici, sia per la procedura di acquisto e sia per la concessione del finanziamento.